Venerdì 8 dicembre 2017. Mancano 23 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno del sagittario. La chiesa ricorda l'immacolata concezione. Buona giornata di festa a tutti! L'onomastico. Oggi l'onomastico di concetta è immacolata. Accadde oggi! L'8 dicembre del 1980, John Lennon, mentre si accingeva a rincasare con la moglie Yoko Ono, viene ucciso con alcuni colpi di pistola da Mark David Chapman, un 25enne, malato di mente. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati oggi ricordiamo il cantautore e poeta statunitense Jim Morrison, nato a Melbourne in Florida, l'8 dicembre 1943. La citazione del giorno. Si vive nei propri desideri e nei propri sogni, più di quanto si viva realmente. Giovanni Soriano. Dice il saggio. Il merlo in gabbia non canta per amore, canta per rabbia. Proverbio laziale. La parola preziosa. La parola di oggi è stolido. Stolido non è un bel complimento da fare a una persona. Un uomo stolido è infatti qualcuno a cui mancano intelligenza e intuito. E che nonostante ciò rimane testardo nelle sue idee.